Benvenuti a tutti ragazzi sono Stefano Cedere, benvenuti sul mio canale, finita di ritorno tra Frosinone e Panermo, prima della Palermo e Frosinone, finita 0 a 0, avete il link qua sopra, vi spoglio il risultato perché ragazzi è praticamente una partita dei più brutte che abbia mai registrato e speriamo che questo ritorno possa in qualche modo regalarci qualcosa in più e vabbè, sistemiamo un attimo la formazione che a tratti ricordo com'è, riconfermo Bargain Pot perché mi è piaciuto moltissimo tra l'altro e vi chiedo ragazzi di lasciare un like e di iscrivervi comunque e vabbè questa è l'ultima partita ragazzi per andare in Serie A pronostico ragazzi, poi sapete com'è finita in realtà, però noi prendiamo la partita d'andata che abbiamo registrato prima, perché non si può imparare la partita, cioè il risultato d'andata è 0 a 0 e qui ragazzi, continuiamo su questi due fili, ecco ragazzi, formazione sapete già, che perché loro tengono quella dell'altra volta, non ci sono fortunati, non ci sono volete nemmeno espulsi, ecco la nostra partita di ciò fai della nuova Rialdo Priglietti, Cip Salcone, Dionisi, Ciano e Ciofani, preferito a Citro da davanti, e loro si schierano con la stessa formazione dell'altra volta, ovvero Pomini, mi ricordo Pomini e Lispoli, come Lispoli, riconunciabili, dai cominciano gli esami, Rolando, Murawski, Ciocev, Coronado, Murawski e Nostroski, vado a operare, Davio Itz, una cosa del genere in cui difensione numero 20, vabbè, Teleti che trova il Palermo ragazzi, si parte, con questa pagina di torno, speriamo che sia più divertente, la pagina di andare, va dentro, ciao Fani, in sinistro, e dopo 9 minuti, il Frosinone avanti, che scambio, che scambio ragazzi, 1-0, dopo 9 minuti, la sbloccano i Laziali, un po' lunga la palla ma di sinistro non fallisce, guardate qua, pala in profondità, stop e di sinistro ragazzi, da attaccante vero, siamo avanti, 98 minuti per fare gol a Pomini, ma ce l'abbiamo fatta, non ho ancora capito chi sia stato a fare gol, è stato Ciano, Camillo Ciano ragazzi, 1-0 e subito ricremmo i difensi, in difensi, corre, ciò a fare il destro, Pomini, ci sta prendendo gusto, ci stiamo prendendo gusto ragazzi, Rolando, Murawski, attenzione Murawski, uh Rolando, Rolando, no, la parata, il gol è parata, gol di Lagumina, gol di Lagumina ragazzi, 24esimo, 1-1, passerebbero loro così, Ciocev, Alesani, Lagumina, palla molto fuori, rimesa al fondo ragazzi, ormai il supplementario non ci si può più andare, ancora Coronado al cross, dentro, party, party, ragazzi, cosa ha preso, a volte ha fatto quelle parate ragazzi, e anche il sul gol ha dormito, Ciocev, Ciocev, no, ha sbagliato il passaggio, devo dire qui però, Rolando, ragazzi, non riesco, terza o quarta volta in questo periodo che sbaglio la direzione dei passaggi, Dionisi, proteggila, 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 ti vai fare poi su 1-1, ti ritira 2 per loro ragazzi, ma, ah, partiti bene, si, parte all'1, se ne ha Coronado, Coronado, entro, dopo di testa, c'è Barbie, ragiona, Dionisi, Dionisi, dentro, ci sanno, cosa ha preso Pomini, cosa ha preso Pomini, ragazzi, adesso rimane bug, Daniel Ciofani, Pomini l'altra volta, Ciofani, e c'è il gol, meritatissimo, meritatissimo del 2-1, del 2-1, ragazzi, sottoporta, meritatissimo, mi sembra che abbia fatto un difensore, vediamo chi l'ha fatto, vediamo tanto di play, ma il centro entra più tardi, non conosco i giocatori qui, ragazzi, c'è da controllare chi l'abbia fatto, non è che devo per legge, non ti faccio l'azione, l'ha fatto, terra nova, ragazzi, terra nova, 54esimo, ci riporta avanti, adesso è di 2-1, cioè da evitare adesso di prendere il 2-2, sennò la partita si metterebbe veramente male, non si può neanche pareggiare, Ciofani, Ciano, Pomini, in angolo, palentro, e ci vanno un 2, e c'è dietro la palla, l'uizzo deve riparare, è data le coschi per la domina, destro, gol, un'altra volta, un'altra volta, ragazzi, l'ha fatto, coronato, adesso, attacco totale, pressing alto, ciao Ciofani, pala dentro, rete, rete, ragazzi, ma che partita è, ma che partita è, ma che partita è, ragazzi, neanche tempo di pillarlo, l'abbiamo già rifatto, l'ha sprecato il cross, l'ha sprecato il salato di Pocciaro, bel gol, eh, l'ha fatto scomportato il difensore del Palermo, l'ha fatto da Ceciano, per il Sodimo, l'ha fatto Ciofani, ritorniamo nell'ultra difensiva, col contropiede, Ciofani, un rigore in movimento, un rigore in movimento, odio queste partite, fa una parte, guarda di Bardi un'altra volta, ragazzi, ha ancora messa fuori, siamo tutti in undici in area, pala dentro, Bardi, aspetta, rifiachiamo, rifiachiamo, 3 minuti di recupero, Pagarini, adesso si fa il tiki-taka, Cipsa, Cone, no, bravo, 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 a recuperare palla, ragazzi, che partita pazza, veramente, questa merita, veramente, tantissime visualizzazioni, tantissimi like e tantissimi iscritti, ragazzi, perché, Pepsio in Avella non è giocato, l'ha aperta così, dopo un gioco al FIFA, ragazzi, ci abbiamo levato, ma si dice da qua, quale palle, per nulla, dio, 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 ragazzi, dobbiamo ancora riprendere, che veramente, vantaggio, pareggio, vantaggio, pareggio, vantaggio, veramente, stranissimo, 9 tiri a 7 per noi, non importa se per noi, c'è quanto, c'è quanto possesso palla, parità, alla fine equilibratissima, veramente, non si può chiedere più equilibratezza a questa partita, ragazzi, però, abbiamo avuto la meglio, vi ringrazio della visione, c'è altro che scrivetevi, che domani, ragazzi, vi torna in mondiale, ovviamente, anzi, oggi è tornato, e torna anche domani, fino al 29 di giugno, ragazzi, fino a fine del giorno di tutti i giorni mondiali, ragazzi, vi saluto, lasciate un like, iscrivetevi come al solito, e alla prossima! Grazie!